A un saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, sono Pierpaolo Segneri e sono in compagnia di Carlo Prinzofer. Siamo qui al seminario dell'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, che si è occupato di quale notizie, di quali termini, di quali temi? I cantieristi oggi si sono sprecati in tecnicismi sulla legge elettorale, quindi sui meccanismi, sugli strumenti, cosa un po' per noi non usuale, non abituale. Noi parliamo in genere, magari a sproposito, di concetti e quindi cerchiamo di tirare più dalla nostra parte le idee piuttosto che non le ideologie. Diciamo che abbiamo approfittato della presenza del professor Salvatore Bonfiglio, che è il nostro socio della sua qualità tecnica per approfondire il tema delle riforme istituzionali e della legge elettorale. Abbiamo avuto anche il professor Paolo Carnevale, anche lui docente all'Università di Roma 3. Abbiamo avuto Roberto Cerreto, che è il capo di gabinetto del ministro delle riforme. Abbiamo approfittato di questi tecnici per studiare un po', ma anche per dimostrare che il cantiere è un luogo, è anche un luogo da abitare, in cui si possono incontrare le persone e in cui si può tentare qualcosa di inusuale. E anche la presenza di Liberi.tv, la presenza di Radio Radicale, in realtà offrono poi un servizio a chi non è stato presente a questa tavola rotonda. Perché che servizio possiamo fare noi come cantiere anche per gli altri? Ma intanto cominciamo col dire che noi abbiamo abolito una parola che è abusata, che è la parola confronto, che quasi sempre porta a una rissa verbale o comunque a posizioni intransigenti, quindi posizioni di non dialogo, posizioni di idee preconcette, posizioni anche qualche volta di privilegi acquisiti e quindi si tenta di far capire che i privilegi acquisiti in realtà diventano regola. Ecco, l'unica regola è non avere regole nel momento in cui si discute. La discussione sviluppa il suo discorso come filosofia, lo diciamo spesso, mano a mano che si sviluppa. E come, dove si sviluppa non lo sai, finché tu non cominci a parlare non prendi una strada. Quindi spesso tu pensi di andare da una parte e ti ritrovi dall'altra, perché il discorso ti ci porta. Infatti vorrei estrapolare da questa tavola rotonda tre parole che ho sentito pronunciare dall'intervento del nostro socio Antonio Motteran. Tre parole che secondo me rendono l'idea del lavoro che stiamo facendo con il cantiere che sono conoscere, e quindi lo studio che stiamo facendo anche sulle riforme, dialogo al posto del confronto e coltivare, dialogare e coltivare. Coltivare un campo o altro. E noi come formichine forse stiamo spostando i nostri semi in questo campo e umilmente cerchiamo di lavorare su queste parole, cioè conoscere, come diceva Luigi Naudi, per deliberare, conoscere significa anche l'aspetto spirituale dell'essere umano, dialogare e coltivare. Però Antonio ha usato una parola che io amo molto, che è smuoversi. E quindi questa è un'altra cosa del cantiere, credo uno dei motivi per cui siamo tutti insieme. smuoversi da che cosa? Dalla palude, un termine forse un po' abusato, dalle sabbie mobili, dall'inerzia, dall'inedia, da che cosa? Smuoversi da vecchi concetti. Noi oggi siamo entrati in un'era completamente nuova e abbiamo il dovere di lasciare a chi verrà dopo di noi, insomma a pezzo di strada, anche questo lo diceva Antonio Motteran, l'abbiamo già fatta. Quindi ognuno di noi può sentire in maniera più o meno forte l'ambizione che diventa desiderio di lasciare questo luogo, che non è soltanto il cantiere, perché tutto il mondo è un grande cantiere, con qualcosa però che sia solido, con qualcosa che possa essere utile così come a noi ci è stato lasciato. Noi siamo stati forse una generazione molto fortunata, io dico anche privilegiata e probabilmente qualcuno non ha ben chiaro che cosa significa privilegio concettuale e privilegio invece più terra terra, più economico, più di vantaggi, ecco, ma non a svantaggio di altri ovviamente. Quello che ritengo più importante è che secondo me è stato un bel pomeriggio, bello, anche il discorso sulla bellezza, interessante che ha riempito non soltanto le nostre voglie di domande, i nostri desideri di risposte, ma ci ha riempito anche umanamente di questa capacità di stare intorno a un tavolo, di essere parte di questo insieme, e il cantiere è un insieme dove ciascuno con la propria individualità, la propria unicità, la propria diversità collegiale e in particolare mi è piaciuto l'intervento di Lorenzo Tarquini, 23 anni, socio del cantiere, parlato di dissenso, noi praticamente stiamo lavorando al nostro interno per coltivare anche il dissenso, che è difficilissimo, è molto più facile coltivare il consenso. Che abbia pari dignità del consenso, il consenso è manipolabile, acquistabile, il dissenso no, il dissenso non ha pari dignità e spesso viene, se non sottovalutato, addirittura è marginato e non si pensi che scheda bianca voglia dire dissenso, perché scheda bianca spesso invece è un bel vantaggio per il consenso. Questi ragazzi di vent'anni hanno bisogno che qualcuno li sostenga nelle loro ambizioni e nei loro desideri e questo è molto importante perché non sono gli strumenti per quanto importanti che possono cambiare le situazioni, le situazioni cambiano perché cambiano le idee, le situazioni cambiano perché ci sono concetti più validi di altri anche se spesso sottovalutati, quindi non è una buona o una cattiva legge elettorale che cambierà le cose, ma è la capacità di selezionare una nuova classe dirigente, una nuova classe politica che possa lavorare con criteri molto diversi da quelli che ci hanno portato fino a dove siamo oggi, appunto ripeto, sabbie mobili e palute, quindi una buona legge elettorale può aiutare ma più di tutti possono aiutare le buone idee. E quindi io direi che su questo tema i due interventi che io personalmente ho apprezzato di più sono stati quelli di Andrea Bernauto, liberale in Forza Italia e di Chiara Geloni che oltre ad essere una giornalista, area PD e anche socio andorale del cantiere che effettivamente hanno centrato i punti di queste riforme, in particolare la legge elettorale e io devo dire che mi sono anche divertito, la pausa caffè che si fa non è una pausa caffè banale ma mi ricorda un po' quel tempo libero che noi cerchiamo di recuperare perché la libertà è anche nel tempo dove ciascuno può veramente dedicarsi a quello che più gli aggrada invece di rimanere diciamo incatenato nei doveri, negli obblighi che la società impone o che il grafico ti costringe a fare stando bloccato con la macchina nell'incrocio, recuperare il tempo libero anche la pausa caffè di questo seminario fa parte di questa leggerezza, l'elemento ludico, l'elemento di leggerezza, di semplicità soprattutto di poter stare insieme senza idee preconcette, io insisto molto su questo perché l'idea preconcetta è quella che uccide il pensiero, il pensiero ha bisogno di essere libero, tutti parlano di libertà, oggi la libertà troppo spesso viene negata dalla classe dirigente che fugge dalle sue responsabilità per cui se non c'è nessun colpevole meglio per tutti ma non per noi poveri cittadini che dobbiamo che siamo come dire avviluppati in una rete, in una ragnatela di regole e regolette spesso inutili, prive di buonsenso quando non crudeli e fuori da ogni logica di buonsenso. Quindi penso che di buonsenso siano stati gli interventi di Bobo Craxi e di Arturo Diaconale perché chi avrà la possibilità di riascoltarli credo che ritroverà quel senso comune che spesso viene manipolato dalla televisione e dagli organi di informazione e che grazie invece a Liberi TV con le sue interviste recupera e restituisce ai cittadini, alle persone che hanno la sensibilità di voler umilmente aprire il proprio cuore, la propria testa per pensare e ragionare senza dogmatismi, senza idee preconcette e formarsi una propria idea, una propria filosofia la filosofia ciascuno se la fa per sé e la capacità poi di incontrarsi con l'altro dipende dal metodo metodo che però non può non avere al centro, tanto si è parlato di cosa mettere al centro la libertà individuale, un insieme di libertà individuali formano una collettività libera di pensiero senza condizionamento e ne dobbiamo ringraziare Liberi TV perché guarda caso di libertà parliamo e con chi ci parliamo parliamo con Liberi TV, quindi la libertà al primo posto, la libertà al centro la libertà di essere in dissenso, la libertà di contestare e la nostra libertà però ricordiamolo sempre finisce dove inizia la libertà dell'altro. E quella si chiama dignità, quindi libertà è anche dignità assolutamente. E con questo salutiamo. Salutiamo Gianni Colacione, tutti quanti. Grande Gianni in tutti i sensi. Ciao. Ecco la voce ai ventenni.